Arrive in Italia Ender's Game, film di Gavin Hood tratto dal pluripremiato omonimo romanzo di Orson Scott Card, racconta l'avventura di Ender, interpretato dal giovane e talentoso Asa Butterfield all'interno di una speciale scuola militare situata in una stazione spaziale. Il film è ambientato in un futuro prossimo, la Terra è stata attaccata da una specie di scorpioni che abitano un pianeta vicino. Dopo una prima vittoria i sopravvissuti si devono preparare alla guerra decisiva per difendere il loro pianeta. Harrison Ford torna così nel cosmo in veste del colonnello Graffa, guida manipolatrice del giovane soldato affiancato da Viola Davis nei panni del Maggiore Anderson, responsabile del benessere psicologico dei bambini e Sir Ben Kingsley, eroico Manzer Rackham.